Bella a tutti ragazzi e ragazze dal vostro pazzo simpatico quest'oggi vi voglio far vedere una cosa per il telefono allora iniziamo subito che il mio cellulare è un P8 Lite Smart versione 2016 quindi non è quello lì del 2017 con le casse sottili di sotto è quello là con la cassa di dietro però è l'ultimo modello, è quello che uscì a dicembre quindi in pratica è un telefono di 5 mesi, 6 mesi, manco pure vedete quante app ci sono su questo telefono? un casino vi voglio far vedere una chicca che ho scoperto in queste settimane allora, come potete vedere la scrittura è normale si può sia cambiare questo tipo di scrittura che lo sfondo dietro tramite un'app che poi dopo se volete l'app mi commentate qui sotto e mi lasciate un bel pollice andiamo su qua lasciamo che carica eccoli qua queste qua sono le intro cioè in pratica il menu del telefono non si può cambiare di come volete infatti ce ne sono a un casino miliardi extra miliardi e in pratica ne voglio scegliere una tipo tipo aspettate vediamo qualcuna catina e si ce ne sono tantissime quindi non saprei vorrei mettere tipo questa lo otteniamo questa avvio del download attendere prego aspettiamo il download qua facciamo no grazie il tempo che scarica questa mappa del menu diciamola diciamo così e questo qua in pratica vi permette vabbè ti ovvi vi permette di in pratica cambiare il tema dietro apertura temi ok qua abbiamo altri temi vedete io ho scaricato già qualcuno scarichiamo ok applichiamo questa ma conserviamo quella originale in modo che non cancella niente ecco qua ha cambiato il tema dietro al telefono e ha cambiato pure i riguadri dell'icone però io non voglio questa perché in pratica voglio quella lì che ho scaricato ieri applica conserva eccola qua io voglio questa perché è figata è una figata guardate come ne cambia spero che questo video vi sia piaciuto e vi consiglierei di lasciare un bel like e magari condividerlo sto video oppure magari non so un commentino qui sotto e con questo vi saluto ciao ragazzi dal vostro pazzo simpatico